Il Ministro della Salute ad Avezzano ha visitato l'ospedale affrontando temi della sanità. Sequestrato prodotti elettrici pericolosi, operazione della Guardia di Finanza di Sulmona. Riqualificazione Palazzini Atter di Pescara, il piano è stato presentato dal Presidente D'Alfonso. Conservazione dell'orso Bruno Marsicano per il Bobo F, i soldi per i rimborsi sono insufficienti. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Primo piano una notizia di cronaca. Finanzieri del nucleo mobile della compagnia di Sulmona hanno eseguito un'operazione di contrasto alla commercializzazione di prodotti elettrici privi di dispositivi minimi di sicurezza previsti dal diritto comunitario e nazionale. in attuazione della direttiva comunitaria del decreto legislativo del 2016. L'operazione a tutela dei consumatori ed a garanzia del regolare mercato quotidianamente, invaso da prodotti a basso costo e dagli scarsi standard qualitativi, si inserisce in una più ampia attività di controllo del fenomeno, atteso anche l'ormai vicino periodo natalizio durante il quale nelle famiglie si soliti preparare i tradizionali addobbi. Le fiamme gialle e peligne hanno incentrato in particolare la propria attenzione nei confronti di un'attività commerciale che deteneva per la vendita grandi quantità di luci per addobbi natalizi a prezzi insolitamente bassi. Gli stessi sono infatti i risultati, esseri privi della mercatura CE, di istruzioni e formatizioni sulla sicurezza dei prodotti e della garanzia. La merce è tutta proveniente da Paese Extra Unione Europea, Cina, consistente in oltre 43 mila parecchi elettronici per l'illuminazione, rappresentando un rischio concreto per la salute e la sicurezza delle persone, degli animali, ma anche dei beni, è stata così sottoposta a sequestro. Ogni giorno la Guardia di Finanza opera per contrastare il commercio di prodotti non genuini e pericolosi che, mettendo fortemente a rischio la salute e la sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, danneggiano anche il mercato, sottraendo opportunità al lavoro e alle imprese che rispettano le regole. Il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha effettuato oggi una visita all'ospedale di Avezzano. Vediamo il servizio. Visita istituzionale. Così è stata definita quella che il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, ha effettuato questa mattina all'ospedale di Avezzano. Ad attenderla, uno stuolo di esponenti politici a vari livelli, come da programma. La prima tappa ha riguardato il reparto di pediatria. La seconda, quello di Neurologia Struck Unit. Alla visita del ministro erano presenti, tra gli altri, il sottosegretario alla giustizia, Federica Chiavaroli, il manager della ASL, Ronaldo Tordera, affiancato dal direttore amministrativo, Laura Coppola, dal direttore sanitario, Teresa Colizza, e dal direttore sanitario di presidio, Laura Cipollone, il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, il senatore Filippo Piccone, il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio e consigliere regionali del territorio. Il ministro Lorenzin, come detto, ha visitato prima il reparto di pediatria, diretto dalla dottoressa Antonella Gualtieri, dove si è intrattenuta a scherzare con i piccoli pazienti, e poi è andata al reparto di neurologia, guidato dal professor Antonio Carolei. Al termine ha preso la parola nella follata sala conferenza dell'ospedale, che ospitava anche i direttori dei dipartimenti dell'ASL e dei vari servizi. L'Abruzzo in questi anni ha fatto bene, ha detto il ministro, ed è uscito dal commissaramento. Adesso deve cercare di consolidare i risultati raggiunti e di migliorarli. L'ospedale di Avezzano, come altri, va adeguato ed è quindi quanto mai opportuno il progetto di costruzione di un nuovo presidio. Ha poi parlato dei LEA e della importanza delle novità introdotte. Il manager dell'ASL, Tordera, nel salutare il ministro, ha detto che l'ospedale di Avezzano ha un ruolo molto importante per il territorio e che, a questo proposito, si sta lavorando su ulteriori nuovi progetti. Il sindaco di Avezzano, Di Pangrazio, da parte sua, ha ringraziato il ministro per l'attenzione dedicata al territorio. Lo Stato ha messo una fetta importante nel finanziamento per la realizzazione del nuovo ospedale, ha detto il sindaco, che copre un bacino molto vasto che va dunque supportato. Anche se ufficialmente non è trapellato nulla, sicuramente gli esponenti politici del territorio non si sono fatti sfuggire all'occasione per parlare di alcune criticità, prima fra tutte la presenza fissa di neurochirurghi, oltre al potenziamento dei personali, indispensabile per il miglior funzionamento della nuova struttura localizzata tra l'attuale ospedale e la caserma dei Vigili del Fuoco. Ora le interviste. Allora, ci può fare la fotografia della rete ospedaliera abruzzese? Secondo lei com'è la situazione? La situazione è molto, molto, molto migliorata, tant'è vero che l'Abruzzo è uscito dal commissariamento. Quindi noi abbiamo una regione che, come si dice, ha fatto i compiti a casa, facendo anche degli sforzi non banali di riorganizzazione della rete e delle strutture. Adesso la sfida dell'Abruzzo è mantenere questo standard e se possibile migliorare ancora di più nei livelli essenziali di assistenza, che è poi il nostro obiettivo come Ministro della Salute. Ecco, delle difficoltà ci sono nelle zone interne. Per esempio ad Avezzano si parla molto del nuovo ospedale. Queste sono, diciamo, proprio decisioni di programmazione della regione e quindi diciamo che ora la regione ha piena capacità e abilità per poter o realizzare nuove strutture o ristrutturare quelle esistenti. È possibile immaginare nell'immediato futuro una sanità di qualità? Ma io credo che la sanità di qualità già ci sia, non è che dobbiamo andare nel futuro. Bisogna migliorare il livello di tutte le strutture e fare in modo che quelle che già stanno andando verso l'eccellenza possano sfruttare tutte le possibilità. L'Abruzzo, se non avesse raggiunto i parametri necessari per uscire dal commissariamento, non l'avrebbe fatto. Quindi questi sono dati che ci confortano. Cosa si aspetta di trovare oggi ad Avezzano? No, un ospedale generalista che fa il lavoro dei piccoli ospedali e noi siamo molto abituati sempre a immaginare gli hub, i grandi ospedali, quelli dove si curano giustamente grandi casi di complessità o di urgenza, ma ci sono anche gli ospedali più piccoli che svolgono un ruolo territoriale importante ed è bene anche andare a visitare questi. Grazie. Senatore Piccone, una importante occasione per affrontare con il Ministro temi attuali della sanità marsicana. Sì, sì, è indispensabile, la visita è quanto mai opportuna proprio perché in questo momento credo che la sanità marsicana abbia bisogno veramente di essere sostenuta perché c'è un lento e costante depavoramento dei servizi che diventa inaccettabile a scapito di una popolazione che rappresenta la metà della popolazione provinciale e che non può accettare che costantemente la sanità si indebolisca. Quindi deve fare riferimento oltre che all'ospedale di Avezzano, anche se si parla di un nuovo ospedale, anche quelli periferici. Non possono essere abbandonati così, insomma, dobbiamo avere una loro funzione. Sì, ma io sarei già soddisfatto se funzionasse bene, anzi benissimo, l'ospedale di Avezzano, ad essere sinceri. E non mi soddisfa certo la struttura perché non è solo un problema di struttura. La struttura, io parlo proprio dell'attività sanitaria che in qualche modo dà risposta alle esigenze dei cittadini. Adesso poi si può stare anche in un bellissimo ospedale nuovo, ma se i servizi sono questi non sono soddisfacenti. Allora siamo con il Presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Mangrazio. L'importanza della visita del Ministro? Beh, una visita istituzionale gradita ricade proprio dopo alcuni giorni dal Consiglio straordinario fatto nel Comune di Avezzano alla presenza di tutti i sindaci, dell'assessore Silvio Paolucci, del Direttore Generale Rinaldo Tordera, dove lì è stata data la notizia di soldi veri per la costruzione del nuovo ospedale. Oggi la visita serve soprattutto, andando a portare solidarietà a questo territorio, ringraziare il Ministro da parte nostra per questa, diciamo, attenzione che ha avuto e poi fargli capire anche un po' com'è la geografia del nostro territorio affinché si possa migliorare sempre di più il servizio sanitario per la nostra collettività, che è il bene primario a cui i rappresentanti istituzionali ci tengono. Importantissimo il nuovo ospedale, però ci sono anche delle criticità, credo che le sottoporrete al Ministro. Sì, le criticità che ci sono non sono criticità che vengono da ieri, ma sono ataviche. La notizia di oggi che è stato immesso in ruolo il terzo professionista sul reparto emodinamica, c'è ancora qualcosa da migliorare su un settore molto delicato, anche su quel versante sia l'assessore Paolucci che il responsabile dell'Agenzia Sanitaria, il dottor Mascitelli, stanno trovando una soluzione. C'è attenzione da parte soprattutto dell'amministrazione comunale di Avezzano, dove non arretra di un millimero rispetto all'attenzione della sanità verso la collettività marsicana. È importante in questo settore il ruolo che dovete svolgere voi politici? Non è noi politici, qui si tratta solamente di far capire le cose come stanno, non solo, ma anche valorizzare i reparti di eccellenza che ci sono nel nostro presidio sanitario, che sono reparti di eccellenza che servono non solo alla collettività marsicana, non solo alla collettività abruzzese, ma anche quella fuori regione. C'è mobilità attiva su alcuni reparti che vengono curati da parte di eccellenti professionisti che sono presenti in questo presidio ospedaliero che sta nella città di Avezzano. Quindi queste cose vanno ribadite, il Ministro già sa, già conosce, se è qui un significato c'è. Tipo, l'analisticamento, poi concludiamo, il riferimento è ovvio all'arrivato di aeropirurgia. Sì, anche su quel versante è proprio che l'assessore Paolucci, il dottor Macitelli, il sindaco di Avezzano, i sindaci della Marsica e naturalmente noi rappresentanti istituzionali regionali siamo impegnati per trovare una soluzione che possa essere utile all'interno del quadro di riferimento e diciamo della sanità regionale. Quello che si può fare lo faremo anche andando oltre ma rimanendo all'interno della regola e della legalità. Allora siamo anche con il sindaco di Avezzano. Una visita è stata istituzionale, però credo che non vi lasciate sfuggire l'occasione per affrontare anche altri temi che riguardano la sanità. Beh, questo sicuramente, ma anche perché proprio di qualche giorno fa l'assegnazione di 23 milioni e mezzo da parte del Ministero della Sanità per rifare il nuovo ospedale della Marsica. Quindi questa è un'occasione per definire subito la tempistica, per accelerare tutto ciò che dobbiamo fare, per mettere in condizioni di avere un progetto subito entro l'estate e poter poi cominciare a mettere la pietra al nuovo ospedale della Marsica che sorgerà proprio qui tra questo ospedale vecchio e i Vigili del Fuoco già dalla fine dell'anno prossimo. Quindi è un'occasione ottima e quindi devo ringraziare chiaramente non solo il Presidente del Consiglio regionale ma anche e soprattutto chi, la Chiavaroli, Piccone e altri parlamentari che hanno fatto da tramite per portare la Ministra qui ad Avezzano perché poi, ecco, venire ad Avezzano come visita istituzionale non la passerella che stanno facendo un po' in tutta Italia per il referendum è una cosa molto, ma molto più gradita. Anche per evitare il depuramento del territorio che continua in tutti i settori almeno salviamo la sanità. Beh, no, il territorio lo stiamo abbastanza salvando stiamo lavorando molto bene su tutti i cambi, sull'industria da ormai sono tre anni, quattro anni che abbiamo bloccato qualsiasi chiusura sul Tribunale non permetteremo ma già stiamo a buon punto insieme al Presidente dell'Ordine per fare in modo che l'ospedale di Avezzano rimanga i Vigili del Fuoco sono rimasti ma diciamo che stiamo lavorando bene per mantenere i presidi da tre anni, da quattro anni, da quando c'è questa amministrazione praticamente abbiamo messo i paletti come siamo capaci di fare e cioè abbiamo sbarrato la strada a qualsiasi invasione esterna soprattutto quando si pensa di portare poi all'Aquila o ad altre parti che già sono molto congestionate, dei servizi che invece vanno nei territori perché la Marsica ha 140.000 abitanti e quindi è giusto che abbia i servizi più efficienti e adeguati per un territorio e per la popolazione tra le più vaste della Bruna. Un piano di riqualificazione straordinario da 2.500.000 euro per la manutenzione delle palazzine Ater di Via Caduti per servizio a Pescara lo ha presentato questa mattina il Presidente della Giunta regionale Luciano D'Alfonso che accompagnato dal Sindaco e dal Vice Sindaco di Pescara Marco Alessandrini ed Enzo del Becchio e dal Commissario Unico Virgilio Basile ne ha illustrato i contenuti di fronte ad una folta rappresentativa di residenti del quartiere dal momento che esiste già un progetto esecutivo l'Ater potrà adottarlo in tempi brevissimi e trasmetterlo alla Regione che a sua volta, attraverso una specifica delibera tra fine dicembre ed inizio 2017, sarà nelle condizioni di finanziare l'opera i lavori previsti oltre al rifacimento delle facciate e alla sostituzione delle ringhiere dei balconi hanno soprattutto la finalità di bloccare le persistenti filtrazioni di acqua e le condense che rendano difficile la vivibilità all'interno degli appartamenti Ater e di aumentare i risparmi sotto il profilo energetico il Presidente D'Alfonso inoltre ha manifestato anche l'intenzione del Governo regionale di replicare questo intervento di riqualificazione del patrimonio dell'inizio regionale riguardo alle parazzini Ater di via Lago di Borgiano e quelle situate nel quartiere Gescal, sempre a Pescara così come è espresso la volontà di intervenire anche negli altri tre capologhi di provincia ed a Lanciano dove sono presenti i complessi Ater che necessitano di importanti interventi di manutenzione una scuola nuova e aperta per combattere con decisione il fenomeno della dispersione scolastica il nuovo progetto europeo guarda i ragazzi ma soprattutto pone sul campo soluzioni ad uno dei problemi più attuali della società abruzzese la dispersione scolastica i numeri nazionali dicono che l'Abruzzo è una delle regioni che occupa posizioni di vertice e questo da sempre sotto la lente di ingrandimento degli amministratori questa mattina l'assessore all'istruzione Marilena Sclocco ha riunito a Chieti i presidi delle scuole abruzzesi per presentare loro in anteprima il progetto europeo scuole aperte e inclusive inserito nel programma 2014-2020 la cui pubblicazione è prevista entro la metà di dicembre con questo progetto ha detto l'assessore Sclocco vogliamo attivare una collaborazione virtuosa tra istituzioni scolastiche famiglie, associazioni di volontariato terzo settore e università realizzando reti per le scuole inclusive in grado di offrire ai ragazzi momenti di socialità e di aggregazione ed affettive esperienze di crescita e di assunzione di responsabilità questo presuppone la possibilità di aprire le scuole nel pomeriggio è stata in modo da soddisfare un'offerta formativa più ampia queste azioni negli obiettivi del progetto tendono ad abbassare la dispersione scolastica e comportamenti devianti dei giovani l'assessore all'istruzione ha anticipato che il progetto Scuole Aperte Inclusive si muoverà su due linee di intervento la prima legata alla realizzazione di servizi fondati sulla centralità del ragazzo la seconda linea chiamata Menti Aperte è destinata agli studenti della scuola media e superiori e prevede percorsi formativi curriculari e extracurriculari e tirocini pratici il 3 dicembre si inaugura Pescara la mostra 1943-44 il sud fra guerra e resistenza promossa dal ministro dei beni delle attività culturali del turismo l'associazione Parco della Memoria della Campania all'istituto Luce Cinecittà la mostra a cuore di Nicola Oddati è stata eseguita per la sezione relativa al Abruzzo dalla fondazione Brigata Magiella e dopo una lunga esposizione a Roma arriva nella nostra regione presso la sala espositiva della fondazione Pescara Abruzzo in corso Umberto I 83 a Pescara fotografie inedite orrare provenienti da National Archives di Washington e da altri importanti archivi italiani pubblici e privati locandini di film sulla guerra documenti come i volantini che i bombardieri alleati lanciavano dall'alto per avvertire la popolazione civile degli attacchi e ad integrare la narrazione e video proposti dall'istituto Luce e ancora la storia delle quattro giornate di Napoli del bombardamento di Monte Cassino della Brigata Magiella e dei governi di unità nazionale a Salerno nel 1944 dove si preparava la rinascita del paese della futura Repubblica nel percorso espositivo che si snoda attraverso le regioni del sud si susseguono le immagini delle sofferenze delle atrocità e delle desolazioni provocate dalla guerra ma anche del coraggio delle prime forme di ricostruzione morale e materiale la mostra è stata arricchita dai contributi dell'archivio di Stato di Chieti e dal Museo della Battaglia di Ortona in un percorso che oltre al valore storico dei documenti presentati intende offrire nei video e audio originali un approccio esperienziale alla vita quotidiana delle popolazioni nel bienio 1943-1944 la mostra di ingresso libero rimarrà aperta quindi dal 3 dicembre al 17 dicembre dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19.30 nel giugno di quest'anno la Regione Abruzzo ha approvato la legge regionale interventi a favore della conservazione dell'Orso Bruno Marsicano e tramite questa legge afferma WWF in una nota sono stati destinati dei fondi per il pagamento dei danni causati dall'Orso alle attività rurali dell'Abruzzo così da scongiurare eventuali conflitti tra attività umane e presenza del Palantigrado a quasi sei mesi dall'approvazione della legge però la stessa è rimasta lettera morta perché non sono stati predisposti di atti proprio d'autici all'applicazione concreta della norma non mettendo così a disposizione i fondi ipotizzati una vera miseria peraltro trattandosi di appena 30.000 euro pochi soldi che possono essere utili per dare un indennezzo a coloro che subiranno danni da parte di Orsi al di fuori dei parchi e per arginare i danni continuano ad essere fondamentali l'impegno delle associazioni locali come Salviamo l'Orso o dalla parte dell'Orso o i finanziamenti europei come quelli del Life Horse che hanno consentito al WWF di distribuire quasi 200 recenti elettrificati l'assessore Pepe ha assicurato l'altro ieri che per esso la legge diventerà operativa il WWF auspica che le promesse seguano i fatti perché non possono essere solo le associazioni private di volontari a farsi carico della tutela della specie simbolo della nostra regione che compare in tutti i dépliant turistici che mandiamo in giro per il mondo per pubblicizzare un territorio una biodiversità che in realtà proteggiamo assai poco conferenza stampa oggi è all'Aquila incentrata sul progetto CapRavNet che vede coinvolti sette partners e quattro associati vediamo il servizio divulgare i contenuti scientifici e le finalità tecniche del progetto e simulare una riflessione critica e propositiva sull'importanza delle sinergie progettuali tra università enti istituzionali ed aziende di settore con questo obiettivo si è tenuta oggi all'Aquila una conferenza incentrata sul progetto CapRavNet idato da CETEMPS e dalla regione Abruzzo e conferenziato dal programma di cooperazione trasfrontaliero IPA Adriatico che vede coinvolti sette partner e quattro associazioni provenienti da Italia Albania Croazia Slovenia e Bosnia e Zegovina nella prima parte della mattinata sono intervenuti tra gli altri il vice presidente della giunta Giovanni Lolli l'autorità di gestione IPA Adriatico e CBC Programme Paola Di Salvatore la rettrice dell'Università dei Sud dell'Aquila Paola Inverardi e la direttora della CETEMPS e coordinatore del progetto Frank Marzano la coordinatrice dei laboratori e centri di referenza IDSAM Rosella Lelli Capradnet nasce dall'esigenza di potenziare e valorizzare i risultati di alcuni progetti già finanziati nell'ambito del programma IPA Adriatico contribuendo all'implementazione di alcune azioni della strategia dell'Unione Europea per la macro regione Adriatico-Ionica l'iniziativa serve a mettere a punto un sistema innovativo per la gestione e mitigazione del rischio idro-meteorologico da applicare in ambiti marini costieri aeroportuali e metropolitani i risultati sono stati illustrati oggi dal direttore di CETEMPS e coordinatore del progetto Frank Marzano e dall'autorità di gestione Paola Di Salvatore Capradnet ha commentato il vicepresidente Giovanni Lolli rappresenta un punto d'incontro tra l'innovazione della ricerca scientifica e la sua applicazione nel miglioramento della vita dei cittadini per fronteggiare rischi ambientali attraverso procedure condivise con i paesi membri della macro regione Adriatico Ionica il progetto è stato finanziato per un totale di 1 milione e 800 mila euro ascoltiamo a riguardo il vicepresidente della giunta Giovanni Lolli vicepresidente oggi la giornata conclusiva del progetto di Capradnet che cosa è immerso quali sono i punti salienti a cui si è arrivati un progetto molto complesso molto interessante progetto diciamo il cui scopo fondamentale è quello di occuparsi dal punto di vista scientifico di quali possano essere le attività le politiche da fare in questo territorio e quando dico questo territorio parlo di un territorio ampio perché il progetto poi si ricollega attraverso l'ipa Adriatica si ricollega a tutto il bacino dell'Adriatico diciamo sulle due sponde dell'Adriatico dell'Oionio è un progetto che cerca di capire appunto come in un territorio particolarmente fragile bellissimo pieno di storia ma fragile che negli anni passati non è stato adeguatamente trattato dagli esseri umani parlo di questi ultimi anni perché nei secoli precedenti l'uomo ha vissuto ha popolato questo territorio con una sapienza e con una cultura molto superiori a quelle che si sono viste negli ultimi scellerati anni in cui attività speculative oppure semplicemente irrazionali non riflettute hanno prodotto poi le condizioni per cui la natura che qui è fragile e particolare poi la natura ha inflitto quei colpi che tutti conosciamo in termini di terremoti ma anche in termini di dissesto dello geologico quanto è importante la prevenzione? ecco appunto qui noi abbiamo di fronte a noi un progetto che è un progetto di prevenzione scientifico che riguarda naturalmente il diffondersi di una cultura diversa da parte dei cittadini ma riguarda anche la possibilità di utilizzare strumenti che le moderne tecnologie la ricerca l'innovazione ci mette a disposizione che poi lo facciamo in un ambito più ampio non semplicemente locale e che scegliamo l'Abruzzo e l'Aquila come uno dei punti centrali dei nodi centrali di questo approfondimento secondo me è molto significativo per la nostra storia per quello che abbiamo passato e per un dovere che noi abbiamo nei confronti dei nostri concittadini ma io direi soprattutto nei confronti del resto del mondo che quando è stato il momento ha saputo essere solidale con noi e che noi dobbiamo contraccambiare diciamo facendo mettendo a disposizione di tutti una riflessione che può essere utilissima l'amministrazione comunale di Celano rende noto che è operativo l'avviso pubblico conosciuto come caregiver che dà la possibilità di accedere a contributi economici da parte di quelle famiglie che all'interno del proprio nucleo hanno un minore in età pediatrica affetti da malattie rare e che necessita di assistenza continua per tutto l'arco delle 24 ore si tratta di un intervento di grande importanza sociale ed economico sottolinea Maria Antonietta Zaurini consigliere comunale delegata alle politiche sociali che apporterà un concreto sostegno a tante famiglie che quotidianamente vivono una situazione di enorme difficoltà tal intervento infatti si prefigge l'obiettivo di favorire la permanenza nel proprio domicilio dei minori di età pediatrica affetti da una malattia rara che determina una disabilità gravissima riscontrabile da una condizione di dipendenza vitale per la quale è necessaria un'assistenza domiciliare e continuativa nella determinazione dirigenziale approvata lo scorso 15 novembre dalla giunta regionale abruzzese dice ancora Zaurini sono elencati criteri di accesso al contributo relativamente all'anno 2016 possono presentare istanze esclusivamente i genitori conviventi inoccupati o disoccupati residenti nella regione abruzzo nel cui nucleo familiare sono presenti soggetti affetti da malattie rare croniche gravi ed invalidanti che hanno necessità di un'elevata intensità assistenziale da parte da parte dei familiari stessi sono previsti 200 mila euro come contributo complessivo e per ogni famiglia in possesso dei requisiti indicati nel bando c'è la possibilità di accedere a un contributo di 10 mila euro lo sport è capace di gesti di solidarietà autentica dimostra celano la vicenda del piccolo Mirko un bimbo malato che necessita di un costosissimo intervento chirurgico la comunità celanese si è unita attorno alle tante associazioni sportive che hanno organizzato una serie di eventi per una raccolta fondi necessari alla famiglia del piccolo Mirko per garantire le cure di un delicato intervento dovrà trasferirsi infatti negli Stati Uniti rimanerci almeno tre mesi con costi cui la famiglia non può far fronte da qui è nata la necessità di una raccolta fondi che con il coordinamento del consigliere comunale con Delega allo Sport Barbara Marianetti vengono in prima fila tutte le società sportive di Celano unite per dare il loro prezioso contributo gli eventi programma prenderanno il via il prossimo 8 dicembre si concluderanno il giorno dell'epifania e durante questo periodo tutte le associazioni società si attiveranno per accogliere fondi in favore del piccolo Mirko e questa era l'ultima notizia prima di saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina facebook antena2avezzano potrà possibile rivedere anche i vecchi servizi che antena2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni dunque grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci a passare